Salve a tutti ragazzacci e impallinatori seriali, oggi andremo a recensire questa banana. E' un po' overjowl, me la mangio dopo. Scherzavo ragazzacci, la banana sta ancora là. Oggi andremo a recensire questa bestia della VFC, modello Avalon Calibur 2. Una bomba. Andiamo subito a vedere la recensione. Ed eccoci qui ragazzi, purtroppo spero la scatola si vede bene. In ogni caso è molto minimale, come VFC sa fare. Ce lo descrive questo modello Avalon Calibur 2 come il nuovo pugnale affilato delle rene del CQB. Ma vi siete mai chiesti da cosa derivi il nome Calibur 2? Il nome deriva da una tra le più leggendarie spade geltiche di Rear 2, ovvero Excalibur. L'Avalon Calibur 2 PDV eredita l'eccellente pedigree delle versioni precedenti e aggiunge nuove prestazioni in battaglia. Attraverso appunto le dimensioni compatte e la robusta meccanica interna rappresenta la nascita di una nuova ammiraglia della serie Avalon. Come ci descrive appunto la Vegan Force Company, questa ASG è progettata per gestire le feroci esigenze nell'ambiente CQB. È proprio come una cortalama indossata dal Cavaliere. Combatta ma con danni, cioè crea danni potenti e può facilmente soddisfare le esigenze di leggerezza e potenza di fuoco dell'utente. Inoltre il nuovo spegni-fiamma barra trombongino emette anche un forte rumore per allarmare i nostri nemici. Nessun compromesso ragazzi? Comprate un VFC. È super compatto, lo avete già visto all'inizio del video. VFC ha ottenuto appunto la piena autorizzazione da Eckler & Koch barra Umarex. Dal design diciamo generale, dal materiale, dal funzionamento, dall'aspetto, nonché anche dall'incisione e dai marchi che sono completamente riprodotti. Come vi ho già detto, la scatola è sempre minimale. Ma mando alle ciance e apriamola. Aperta la nostra scatola, cosa troviamo? Troviamo il nostro VFC Calibur 2, Avalon Calibur 2, scusate. Un caricatore QRS. Lo apriamo, lo tiriamo fuori. Ovviamente monofilare da 120 colpi. Una prolunga per il calcio, quindi per la batteria, per alloggiare la nostra batteria. In questa finestrella troviamo lo spegnifiamma rosso, che abbiamo già prontamente rimosso, quindi li metto qua dentro. Però mi raccomando, quando andate in giro con queste repliche, usate sempre il tappo rosso. Dopo di ciò troviamo due manuali, di cui uno in italiano. Ragazzi, finalmente un manuale di istruzioni in italiano. E adesso direi di tirare fuori dalla scatola e da questo preservativo, che penso stia molto scomodo. Andiamo avanti. Dopo di ciò togliamo tutto. Ed eccolo qui, fuori dalla scatola. Direi di parlare subito delle peculiarità di questo favoloso VFC Avalon Calibur 2. Il Calibur 2 viene fornito con le parti tattiche potenziate VFC QRS. Non so se riuscite a vederle qua e anche sul pistol grip. Il calcio è retrattile a scomparsa. Il grilletto ha una forma di un pulmine. Il nuovo design del paramano è il lega di alluminio M-Lock. Rende l'utente più agile per riprese rapide e ha un'area di espansione sufficiente per qualsiasi accessorio. Purtroppo però le slitte M-Lock non sono incluse. In via generale abbiamo un peso di 2275 grammi. Quindi veramente leggero. Una lunghezza che va dai 400 millimetri fino a 500 millimetri. Abbiamo una canna interna di 168 millimetri. Un guscio completamente in metallo con loghi serigrafati. Abbiamo una slitta superiore in metallo per accessori. Un paramano M-Lock. La velocità di uscita è ovviamente di 100 metri per secondo. La modalità di azione è elettrico. Va ovviamente in sicura, singola e raffica. E poi vi è un vano batteria, che è proprio questo qua, semplicissimo da sgangiare, dove all'interno appunto abbiamo un attacco minitamia. E abbiamo anche all'interno un grilletto elettronico con una centralina MOSFET. E allora ragazzi, per quanto riguarda le caratteristiche nel dettaglio. Quindi abbiamo un lower e un upper receiver in lega di alluminio di alta qualità. È abbastanza leggera ragazzi, ed è rifinita, è proprio rifinita benissimo. Un selettore di fuoco ambidestro, quindi possiamo anche cambiare con l'indice, oppure per i mancini. Abbiamo ben due sistemi di sgancio del caricatore, uno classico sulla parte destra e uno sulla parte sinistra. Abbiamo anche un bolt catch funzionante, quindi che permette di chiudere in modo semplice lo sportellino dell'otturatore. Non ci sono tacche di mira né anteriori né posteriori. Abbiamo un pistol grip della QRS, e devo dire che è molto ergonomico in polimero. Notate la facilità con cui riesco a maneggiare la replica con una sola mano. Oggi facciamo un test, la riuscivo a prendere tranquillamente dal calcio. Dopo di ciò abbiamo appunto un calcio modello PDV retrattile in tre posizioni, ovvero una, due, tre. Il calcio è dotato di una lunga molla all'interno che permette di mandare indietro velocemente il nostro calcio. Ve lo faccio vedere. Ecco qui. Dopodiché abbiamo un RAS M-LOK da 6,5 pollici e un tromboncino in metallo. Non c'è da dimenticarsi del poggiadito ambidestro. Sempre QRS. Spero sinceramente di non aver dimenticato nulla, quindi direi di parlare delle caratteristiche interne. Abbiamo un gearbox completamente in metallo rinforzato, uno PUP Maple Leaf Competitive Grade Regolabile, quindi una bomba, ovviamente una TO PUP. Abbiamo un commino Maple Leaf 60 gradi, un motore Long Axle High Speed, ingranaggi in acciaio custom, ragazzi scusate il mio inglese, delle boccole in acciaio da 8 mm, cuscinettate ad alta velocità. Il pistone è in polimero rinforzato. La testa pistone in polimero rinforzata anch'essa. Il cilindro è un match grade in alluminio. La testa cilindro invece è in polimero rinforzato. Abbiamo una molla di un joule, uno spingipallino in ABS rinforzato e una canna interna Maple Leaf di precisione in alluminio. Ma parliamo del prezzo. Il prezzo si aggira tra i 420 ai 470. Noi l'abbiamo preso sul sito Calico Jack che vi consiglio spudoratamente per la serietà, la velocità e la comunicazione che vi è tra acquirente e venditore. Ovviamente il link è in descrizione. Che dite? Lo proviamo con una 11.1? Direi di sì. Metto la mia Nanotech. Vi faccio sentire il Roof, ragazzi. È una bestia di fucile. Per i non amanti del tromboncino potrete comunque utilizzare un silenziatore. Anche se devo essere sincero, rispetto al tromboncino del Wild Dog 7 fa molto meno rumore. In ogni caso, lo fa. Allora, proviamo il singolo. Fantastico il grilletto a forma di fulmine. Proviamo la raffica. Vi ho fatto vedere la bestia. Credo di aver parlato un po' troppo e vi ricordo la solita tiritera. Mettetevi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. Non dimenticate di attivare il campanellino per ricevere le notifiche. Queste vi comunicheranno appunto che dei nuovi video di Nikos Moker sono stati caricati. Per oggi è tutto. Un saluto da Nikos Moker. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie per la visione!